Musica Ciao a tutti ragazzi, a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di AdventureCraft La serie che, spiegabilmente, esce troppo tardi, spesso Spesso, volentieri, esce poche volte alla settimana Non so ragazzi che sto un po' trascurando Ulissecraft e AdventureCraft Ma con la Pixelmon, diciamo che il tempo vola via Quindi non riesco a registrare molte cose Comunque, per questa settimana riprenderò benissimo a fare sia Ulissecraft che AdventureCraft Penso che ci sarà almeno un giorno sempre Ulissecraft o AdventureCraft Ve lo prometto, ok? DGVP, se volete mettete un bel like, così almeno manterrò la mia promessa, forse Penso di sì, la manterrò perché voi siete OP Perché voi siete OP, c'è niente Ok ragazzi, allora, nella stessa puntata abbiamo finito il dungeon Abbiamo messo un po' a posto, abbiamo fatto un paio di cose E cosa faremo in questa puntata? Andremo a fare una fornace, andremo a fare la fornace della Tinker Che ci serve tantissimo Quindi ci servirà un bel po' di roba Prima di tutto una pala, ce l'abbiamo Dovremo avere la super pala gigantesca, super OP Oh, guardate la velocità di parola che ho Cioè, oggi, OP Nice E mi serviranno... Eh, solo qua essenzialmente Perché, ok Abbiamo due wood Dovremo avere anche un letto a qualche parte Mi ricordo che c'era un letto, forse Ok, abbiamo uno di questo Però questo lo vedremo nella prossima puntata E, boh, sì, è finito Tanto questa roba devo prendere Ok Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ne ho recuperare un bel po' di gravel E tanta, ma tanta sand Quindi, gravel e sand Più o meno li possiamo trovare In mezzo qui Tranquillamente la sand è la cosa più facile da trovare Direi Basta che... Oh, cavolo Sono un blazer, vero? Devo un attimo cambiarmi Aia Ok Perfetto Guardate quanto sono veloce a scavare Bello Amo questa... Questa super pala che è di BWO Non è proprio di BWO Diciamo la moda Ha voluto ispirare questa pala di BWO Aspettali Ok Mi serviranno... Mi servirà un bel po' Mi servirà anche un bel po' di clay Sicuramente E oggi monteremo la fornace della tinker Come ho già detto Cosa farà la fornace della tinker? Ci metterà di fare Potenzialmente il nostro piccone Che adesso è abbastanza nabbo Cioè, diciamo che fa schifo In modo semplice Possiamo metterci sopra? Eh, non ce lo dice, è vero Devo vedere dopo, devo vedere Però, più o meno, mi ricordo che posso metterci del ferro Quindi è quello che devo fare Principalmente... Uh Ok Allora, per un secondo Mettiamoci un attimo sta dirt qua Perfetto Ok Ottimo Dovrebbe bastare uno stack Penso di sì, speriamo Ok Eh, devo, devo, devo anche mettere a farmare le robe lì dentro Stavo pensando ragazzi Cosa ne pensate se... Eh, faccio dei live pomediani O serali Del tipo serali Sì, meglio serali Yeah Che vedete? Fatemi sapere alcuni commenti così Poi almeno sapremo cosa fare Uh, allora Questa cosa è la tinker Questa cosa è della towncraft Potrei prendere Non so, c'ho piccone di diamante Ce l'ho fatto Vediamo un po' Facciamo a rompere sto coso Bam Ok, potevo anche prenderlo con la bacchetta Però non ce lo voglio Quindi ok Oplà Vediamo di rompere questo Posso di sopra non ci siamo stati ragazzi Dobbiamo salire Così così adesso Finiamo anche quello Allora nel mentre Diciamo gravel Eccola quella che abbiamo trovata Oh, quanta ce n'è Ok Boom Dovrebbe bastare Oplà Perfetto Ne abbiamo più che abbastanza Oh, voglia Ok Della gravel E quindi ci rimane soltanto da prendere Della clay Clay, clay, clay Che dovrei avere da qualche parte No vabbè Ci abbiamo qua Dentro la nostra Bella zona raccolta Guarda che bella la casa da sopra È un po' spoglia al momento Però pian piano Uscirà un po' più carino Dai Ok Recopriamo tutto Oplà Perfetto Questo, questo E questo Oplà E questo qua Vai, veloce Ok, 28 Sono pochissimi Pensavo fosse Tipo Un po' di più Allì c'è un sacco di clay Ok, prendiamo tutto adesso Anche qui c'è la clay Wow Nice Si sa che dico sempre nice ragazzi Però mi piace la parola nice Non avete problemi Cioè Lo vuole dire Vuole mettere Troppo bella la parola nice Ok Nell'angolo però non va bene Ok Ottimo Abbiamo un bel po' di stack Perfetto Ma è anche con looting No, non abbiamo looting qui sopra Davvero Oh ok Ci dice anche da dove l'abbiamo recuperato Cioè proprio È bella sta cosa Ok Allora dobbiamo farci Questi blocchi Facciamo prima con i blocchi Quindi facciamoci direttamente questi Nice Dove fare qua le scale Dall'altra parte Invece ci sono già Ma visto che abbiamo sopra La nostra cosa Dovemo comunque salire di qua Ok Perfetto Guarda che bello Proprio sembra Come se entriamo nella montagna Ok Allora Devo farci Groot Go Go No Com'è Groot Tinker Ragazzi vado un attimo da piedi Arrivo sciubitissimo Ok ragazzi Nel mento l'ho trovato Eccolo qui Bam Bam Ok Possiamo mettere qua Certo ciò che vogliamo Ci vorrà un po' Quindi no che facciamo Nel mentre Ci buttiamo Questi qua Qui perché Non so dove Spistarli per il momento Ok Andiamo a combattere Contro quella Big cosa Ouch Faccio un sacco di male Quando cado Però Detta Intanto c'è un fighter falling Quindi chi se ne frega Ok Ottimo Ottimo Andiamo a vedere Che cavolo c'è Di dentro Mi sembra che l'ho sbrollato a metà O sbaglio ragazzi O non era questo che ho esplorato Boh non mi ricordo Allora esploriamo Cioè Vediamo un po' cosa possiamo trovare Un po' di drop Potrebbero essere interessanti Ok Wow Anzi questo l'ho lasciato io Ho esplorato una parte Allora me lo ricordavo bene Ouch Mmm Ok Dessiciamo questo prima Aia Mmm Mi serve un po' di Di latte tipo Sarebbe la cosa migliore Da portarsi in giro Ok Sì Stronzate a parte Tipo sto prendendo Tutto il resto che non mi serve Dio un po' Dobbiamo trovare Oh ciao amico E' davvero boh Questa spada incentata ragazzi Non so se Ho più Se è bugata Oppure boh Fa schifo E basta Mi ha missato Da quella distanza Ciao amico Bam Ok Facilissimo uccidere Questi skelettri Dopo che ti sei fatto Una bella armatura Mmm Ok Ecco Vedete la lana Che mi serve Mmm Sei stronzo Dai fermo lì Nice Ok Quando saliamo su Saliamo su Vediamo cosa riusciamo a trovare Ciao Oltre gli amici skelettri Che ci attaccano Mi ha attaccato qualcos'altro Sembrava di sì Ok Nice Ok Allora Distruggiamo questa parte Panini Wow Divertiamo proprio oggi Drop proprio interessante Mi dicono Sì Io mangerò sempre Golden Carrot Perché mi piacciono tantissimo Aia Ok Ho preso un buco Precino Ah Sono io lo zombie Ecco perché veniamo ammazzate Ok Ok Ho capito Torniamo noi stessi Dovevo ancora cambiare quel conflitto Grazie Vi giuro Non me lo ricordo Non lo ricordo mai Cani zitto Ciao scherzo Aia Quello esplosivo Lo pensavo Ok Ottimo Ancora merda E ti rilasciamo questa merda qua dentro Va Ok Quanto è grande ancora Uh L'ho inciantato Mi dai l'arco inciantato Dammi l'arco inciantato Dammi l'arco inciantato Me l'ha dato Grazie Ok ragazzi Come si impara un arco inciantato Bella domanda Con un altro arco Presumo Sì Penso di sì Ah da pesca Oh Melon seed e pumping seed Nice Quali si piacevano invece Ma interessanti Ok Un po' di frecce Ci siamo fatto Oh cavolo Quella esplosiva E quella di fuoco Ok Opla Aia Mi ha fatto fuoco Vabbè Ok Distuggiamo questi due Uno E E due Non dobbiamo cadere Facciamo un'attenzione Una spada in ferro Wow Ragazzi sbagliavano Troppano meno robe adesso Tipo prima Troppavano un sacco Ma un sacco di roba O c'era Bizzef Questa è la Bizzef Insomma Prima che stava Mettendo acqua C'è delle robe lì dentro Avvicino casa Quinteria dovrebbe caricare Quel chunk Ouch Oh Esplosiva C'hai Aia Patate Patate Ok Quale ci servono Nice Muori Patate La presa Ok Buttiamoci questo Buttiamoci questo Buttiamoci questo Buttiamoci questo Buttiamo il resto Insomma Aia Ok Stiamo anche qua Oh Quanti ne sponano Ok Ok Dovremmo essere più o meno All'ultimo piano Ok Vabbè Quanta armatura Aia Sì vabbè Nell'angolo siete stronzi Però a farlo Ok Allora C'è una roba che non ci interessa Tipo questa 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 Le teste Inutili Ok Siamo Più o meno all'ultimo piano Se arriviamo all'ultimo piano C'è il boss Ricordate Ok Niente arcieri Cosa Molto buona Arcieri che possono rischiare Altri dettagli Oh Lamp Oh Bookself Mi servono anche questi Borei Mi servivano In futuro Mi serviranno Ok Ragazzi Ricordiamoci Quando prendiamo la cesta Esplode Eh Dov'è ragazzi Dov'è Dov'è Ehm What Vabbè ragazzi Non c'è Dettagli Ok Niente boss Niente boss Siamo rimasti un po' di merda In effetti Ciao creeper Oh Bam No Lo volevo prendere al volo Ragazzi Che figata Sarebbe stato bellissimo Ok Muori Ok Questa è una freccia che Boh Spuntato lì Ok Ci dà un attimo Se i scheletri Sto vicini Non quello di fuoco Che se no Sono cavoli Ok Ottimo Ok Saremo su Saremo su Vediamo un po' Dovrebbe aver finito Di farmi il grut Quindi possiamo farci Iniziare la nostra fornaccia Non so dove metterla Sinceramente Qual è il problema Più grande Quindi Boh Dovevo vedere un attimo Eh Sì Su 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 Ok 36 Svistiamoci Buona roba Allora Facciamo un letto Ragazzi Che ne dite Alla spada E canata pesca E dato anche questa Compotenza Che in effetti è buona Qua Lingotti Abbiamo un po' di diamanti In effetti Ok E Questa va bene La smistiamo presso Qui dentro Poi Poi dovrò comunque Levare anche queste ceste Tranquilli Ok A posto Allora 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 Cosa facciamo Cosa facciamo Ricopriamo Abbiamo questo shared 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 Ottimo Allora devo farmi un paio di robe Per di tutto Mi servirà il libro Ok Questo qua Rosso Perfetto Materials in you A me serve l'altro Quello nero Non lo posso fare No vabbè Tanto ho reso la memoria Il resto Vabbè Andiamo Materials in you Nice Allora ci serviranno Un paio di queste cose Prima di tutto ci serve Allora Allora Avete Abbiamo bisogno Di smeltery control Uno shared tank Uno shared brick Any combination Of shared brick Un faucet E un casting table Allora Questa iniziamo Andiamo un po' Tinker Allora Facciamo in questo modo Smeltery controller Allora Un controller Poi Un drain No Cavolo Due controller Adesso un stupido Un drain Perfetto Vabbè Controllare Mettiamo qua Poi Mi servirà Un tank Mi servirà Un vetro Dovrebbe andare bene Perché in teoria Avete sempre un glass Questo No Non va bene Vabbè Non è un problema Possiamo Sempre trasformarlo In normale glass Questo Ok Ottimo Facciamo in questo modo Glass E Ok Basta questo C'è un faucet Mi serve quindi Uno, due, tre Perfetto E uno di questo Perfetto Ok Dovrei avere tutto quello che mi serve Per adesso Stanto i blocchi mi servono adesso Ok Ottimo Penso che lo vado a mettere Qui dentro Qui Qui, qui, qui Ok Che ne dita Serve uno spazio di tre per tre Quindi così Ok Lo possiamo sempre mettere in altezza Però comunque non dovremmo vederlo noi Tranquillamente Quindi Ok Anche se Non so quanto posso andare in alto qua Vabbè Dovrei poter andare Un po' più in alto Vabbè Ne fate un po' Iniziamo Uno Due E tre Ok Poi in effetti Dovo Mi servirà stanto per cambiare La putta di questo piccone Ragazzi E perché Anche quelle nuove Ok Perfetto Tre per tre Allora C'è una base Tre per tre Guardate che Ne fa tempo Leviamo anche questa roba Che ci servirà un po' di spazio in più La pala Ok Ottimo E Beh Adesso poi chiudiamo tutto Non preoccupatevi ragazzi Non preoccupatevi Se è brutto da vedere adesso Esteticamente Mi servirà stanto uno spazio Almeno per adesso Quindi ok Perfetto Poi Dobbiamo farci Ehm Control E andavo Ah cavolo È vero Dove andare forza indietro ragazzi Di uno indietro Perché mi servirà uno spazio davanti Perché il centro Ehm Non è Cioè il centro è tre per tre Però attorno Dobbiamo costruire i blocchi Quindi dove non abbiamo messo i blocchi neri Ok La Ok Perfetto Perfetto Quindi qua Ok Allora uno due Come uno due Dove esserci un altro Dove esserci Oh Ah ecco Non l'ho preso Ok Ma venici un attimo da sopra Gli istanti blocchi Perché mi servono un bel po' Wow E Metti il coal qua 24 dovremmo farne 6 Ok Sono più che abbastanza Per iniziare il pomo layer almeno Ok Qui ci andiamo In questo modo Ok Uno due Tre Ok Control Che va in questo modo Aspettate che mettiamo la cobblestone qui sotto Ok Allora Ci metterà un coso Un coso di questo Un controller Qui non serve sui lati Eh questo è il mezzo Ok Ehm Control E poi Dovrò ancora dare di uno di qua Perché mi servirà un po' di spazio giusto qua vicino Ok Uno Due E tre E poi anche qui un due e tre Perché devo scendere dopo Vi dico anche il perché Ok Eh vabbè si Devo fare comunque per forza così Perché mi servirà piazzare il resto Ovvero il fauciet E tutto il resto poi Ok Fauciet Uno di questo Eh sì Devo metterlo qua sopra Mmm Ok Mi ha capito che non vuole Mettiamoci di qua Perfetto Vediamo va E stronzo Ok uno di qua Perfetto Devo fare così Devo trovare l'acqua in effetti Oh si è rotto il piccone Ecco perché odio questo piccone ragazzi Perché è ancora troppo Cioè nel senso È schifo 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 Ok Perfetto Eh mettiamoci un tank qua E mi serviranno un paio di blocchi ancora Quindi andiamo a vedere se è finito Mi servirà anche un secchio di lava Quindi facciamo un secchio veloce anche Ok due Per ora Dovrebbe bastare in teoria Un altro solamente Ok Andiamo a prendere un secchio di lava Nel mentre Non abbiamo un secchio di lava Abbiamo due secchi Ok Ma non di lava Lava qua vicino non ce n'è in effetti Dovrei forza tornare Waypoint giù Quindi per esempio Waytier E qui c'era un po' di lava Mi sembra Eh nice Redstone che potevo prendere Adesso posso prendere la redstone È vero Piccone di avanti Ok Beh la prendiamo Perché Perché no Perché no Ok Un po' di lava La prendiamo Mi serviranno Eh almeno due secchi va Teniamoci Possono essere utili in futuro Ok Eh Da cavolo Ho elevato i gruppi Punti Call Ok andiamo Casa buona Ouch Allora Prendiamo giusto L'ultimo quattro Facciamoci l'ultimo blocco Perfetto Allora adesso Cosa abbiamo bisogno Abbiamo bisogno di farci Eh Vediamo un po' Vediamo un po' Da che parte avevo lasciata Che sta qua insomma Un pezzo di questo In legno Per forza Legno Pezzettino di legno Ce l'abbiamo Sì ce l'abbiamo Ok Ah no Giusto per forza In flint Ok Abbiamo un po' Di flint Flint Niente 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 Dove ho messo la flint Eccola qua Perfetto Ok Provare quella cosa Che ho fatto adesso Che è una ricerca La fin fine Basta cliccare due volte Sulla nei Uscirà gialla Voi scrivete ciò che volete E lui vedrà Tra i Cosi che vedete Se c'è quello che vi interessa Ok Uno di flint Perfetto Ok Allora Cosa devo fare Devo mettermi Questo qua sopra Ok Mi servirà un po' di gold Pure Vedete qua adesso Fino qua Bam Si è aperto Ok La lava va messa Qui nel tank Uno E due Perfetto E' un po' bugata La visuale Per quello vedete Che tipo Scende Invece di salire Però tranquilli È normale Vedete che c'è qua Perfetto Possiamo cominciare in totale Sei blocchi Si sei blocchi Mi servirà Della Un po' di lingotti Di questi Due passano Si Ok Tanto la parte di sopra Soltanto mi serve Del piccone Perfetto E infatti Andiamo a riparare Il nostro piccone Vabbè Basta Stiamo qui Tranquillamente Andiamo a riparare Anche da solo Perché è bello Questo piccone Ok Allora Vediamo un attimo Di smistare Mentre che lui Brucia tutto Ok Cobblestone E quest'altra roba E della tinker La tinker La mettiamo sempre qua Ok Flint la mettiamo qui La redstone La redstone La redstone Mettiamo qua E tre minerali Giusto Qui la legna Questo arco È rimasto in più Ah volevo riparare Quell'arco Con power 2 In effetti È buono come arco Abbiamo anche 40 livelli In effetti Possiamo anche Enchantarlo Però no Dobbiamo forza ripararlo Ok Power 2 ragazzi Nice Bello 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 Potente Adesso Dovrebbe Levare un bel po' Abbiamo un sacco Di picconi Abbiamo uno con Fortuna Unbreaking Efficienza 4 Posso farmi Efficienza 5 Ragazzi Unbreaking 3 Fortuna 3 Wow Piccone stra OP Però in ferro Peccato Ok Del god ha finito Vedete che Adesso c'erano due lingotti Ah due lingotti Me ne fa Vabbè due lingotti Mi servono Ok facciamo il cast Qui sopra ragazzi Vedete Ho formato il cast Dovrebbe essere finito Vedete due lingotti Quindi serve Uno di questo E adesso sul cast Facciamo sciogliere il ferro Il ferro Poi andrà lì dentro E mi fremerà Questo qua Però in ferro Eh Due Mi servono Ehi Due Perfetto Sciniamo giù E' bello che abbiamo più diamanti Che ferro Quale è la parte interessante Ok Vi faccio vedere nel frattempo Cosa potremmo usare Per farci Per il piccone Insomma E possiamo vedere Possiamo vedere che possiamo usare Flint Obsidian Nederachetanum E ora non so Sull'altro coso Come funziona Sinceramente Su questo Un po' Eh Niente Non mi dice nulla Sinceramente Forse se lo metto dall'altra parte Me lo dice Vediamo un po' Lui ci dirà Più o meno cosa Potremmo usare Qua No Ok Solo su quelli funzionano Vabbè Vabbè Non è un problema Ok Facciamo un attimo Che finisca di cuoce Favo abbastanza veloce Quindi tranquilli Non è così tanto lungo Il processo Ok Vediamo un po' Dai finisci Fammi questo ferro Perfetto Ok Vedete adesso Bam Prima sembravano blocchi Però alla fine sono Lingotti Tranquilli Ok Possiamo farne La bezza di due Addirittura Part can be Replaced Questa significa Questo che posso Scambiare le parti Ora penso Posso farlo anche di qui Direttamente Perfetto ragazzi Ricordate che c'era la flint Vedete che c'è scritto Ebbè non c'è scritto Nessuna parte Vabbè Vabbè Flint Bam Ta da 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 Boost XP Dovrei poterlo boostare Ovvero posso recuperare Altre esperienze In teoria Sì vedete Altre esperienze Nice Bella domanda Allora come salgo Ok Ottimo Sono un genio Bam Perfetto Adesso in ferro Possiamo distruggere Fino al ferro Poi potremmo comunque fare altro Se possiamo metterci altre robe Vediamo un po' Quest'altro Potevamo mettere Come ho detto Flint Obsidian Netherrack Eh io direi ragazzi Che se riusciamo A sto punto Facciamo in questo modo Prendiamo altri due Lingotti di oro Ok Bruciamo altro oro Ok Voi direte Molissimo c'è già il ferro Eh ragazzi tranquilli Ora vi faccio vedere cosa facciamo Ok Eh lo mettiamo qua Cerverà un Uno di questo Un tool rod Dovrei poter scambiare anche quello In teoria Sì lo rendiamo più figo Ok Tool rod Ci mettiamo Oh bella domanda Cosa ci mettiamo Eh Penso del legno sempre Legno Ok Bam Ok Perfetto Questa parte può essere cambiata Come dice qua Va bene non è un problema Ok mettiamoci i wood lì sopra Ok Eh ha fatto l'oro Ha fatto Allora vedete che c'è prima il ferro sopra Noi lo facciamo Clicchiamo su l'oro E l'oro andrà sotto Perfetto Quindi che significa che adesso possiamo Far colare l'oro Sulla Nostra bacchetta Slash Asta Perfetto Quest'asta adesso possiamo far colare sopra Nostro ferro Eh Questo è un lingotto Cosa significa che possiamo fare la bellezza di due di queste Di queste iron tool Quindi le teniamo in caso ci serviranno per altre cose Nel frattempo possiamo comunque utilizzare questa per scambiarla Perfetto ragazzi abbiamo potenzializzato anche questo Mi piace Ok Perfetto Quindi come vedete abbiamo migliorato Comunque la parte importante è la testa Non tanto Abbiamo migliorato comunque la durabilità Quella sì Sicuramente Aggiungendo Un Dove è questo qua Sì Vedete abbiamo anche altri tre potenziamenti Abbiamo due lapis Perché abbiamo due lapis sopra Vabbè Comunque abbiamo un sacco di potenzialità La durabilità fa sempre schifo Perché fa schifo la durabilità Vuole una durabilità migliore Vabbè La vedremo in futuro In ogni caso Non abbiamo forse niente durabilità Perfetto ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto Vi ho visto qualcosa della 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 cosa lì Della Insomma della Incomuna tweak Ok E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Ehi tu Sì Dico proprio te Sì Nuovo da queste parti Sì Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video di gameplay Quindi Che aspetti Vi devo sovevarlo più da vicino Persone o animali o bambini Non sono stati sfruttati per la realizzazione di questo video Ciao